Eccoci qua per il terzo appuntamento di presentazione della linea Readymade Boyless Overcarp Bite. Questa volta andiamo a presentare la 666, Boyless decisamente speziata che non poteva mancare per gli amanti del genere nella linea Overcarp. Una Boyless della composizione altamente tecnica rivolta alla cattura delle grandi carpe selvatiche in praticamente tutti gli ambienti che possiamo andare ad affrontare durante tutto l'arco dell'anno. Molto interessante il mix che va a comporre questa esca. Mix che come spesso accade nelle Boyless Overcarp parte da una base composta dai loro famosi pastoni altamente tecnici e nutrienti con ingredienti specifici che potete andare a vedere anch'essi nel nostro sito fra le categorie rivolte al self-made. Additivando il tutto con una buona percentuale di Robin Red. Inutile dire, ingrediente assai gradito al palato delle carpe italiane ed europee in genere. La parte solubile del mix è composta da elevate percentuali di idrolizzati di derivazione carnosa, tra cui il noto Overcarp Bite Special Powerler, che garantisce un'elevata e rapida attrazione verso le nostre amiche carpe. Molto importante è l'altra composizione, le altre farine che vanno a comporre il mix, tra cui importante sottolineare shrimp e gammarus, proteine del sangue e estratti di lievito. Farine molto solubili, molto nutrienti e che vanno a dare un quadro nutritivo, attrattivo e digestivo veramente molto interessante a questa esca. La parte liquida è composta da un particolare olio complesso costruito da Overcarp Bite di paprika, Indian spice e cannella. La parte aromatica, come il nome stesso dice, 666, che è poi il nome che viene dato anche all'aroma dedicato a chi ama il surf made, sempre dalla linea Overcarp Bite. 666 è praticamente molto simile a un classico Indian spice che possiamo trovare di altre marche, ma decisamente più marcato e anche al naso umano è molto più forte e molto più pungente. Delle bolis che chi segue Overcarp sa hanno dato veramente tante soddisfazioni, è un'esca che ormai possiamo anche definire classica perché decisamente presente in quasi tutti i cataloghi, ma su cui Overcarp è andata a inserire, ad utilizzare le proprie conoscenze tecniche, i propri sviluppi, i propri ingredienti per rendere ancora maggiormente più efficace. Grazie a tutti.